Io ho avuto bambini che in prima sono arrivati e non riuscivano a comunicare perché non conoscevano alcuna parola in italiano se non ciao. La scuola elementare di Via Paravia è nel quartiere delle case popolari di San Siro. Qui le classi sono a maggioranza non italiana con percentuali che sfiorano il 100%. Questo perché gli italiani se ne vanno, si spostano verso il centro città o verso scuole private e abbandonano il proprio bacino scolastico d'utenza. Le famiglie italiane pensano alle periferie come a zone di segregazione sociale dove si concentrano situazioni problematiche che possono danneggiare il percorso formativo dei propri figli. Spesso le scuole di periferia sono associate a una narrazione di pericolo. Invece in qualche caso è proprio qui che sono nate sperimentazioni che hanno individuato delle vie di uscita positive.